Adi, associazione per il disegno industriale, rappresenta le idee e gli interessi del sistema del design in Italia e nel mondo. Emiliano, partiamo subito dalla presenza dell'azienda in fiera qui a Euroluce e poi andiamo a declinare il vostro rapporto con l'associazione Ladi che dalla metà del secolo scorso è in consorzio con le aziende, con i professionisti per portare avanti il messaggio del design italiano e non solo. Allora, innanzitutto grazie e buongiorno. Dunque, noi siamo soci adi da tantissimi anni, lo era mio padre e quindi ho continuato questo rapporto. E' molto importante essere soci, che è un'iniziativa molto interessante, che collabora quindi con i progettisti, con le aziende, con i giornalisti, ma è insieme intorno a sé tutta una serie di un circuito veramente grande, virtuoso e quindi si deve ringraziare per questo anche i vari presidenti che hanno portato avanti questa iniziativa e che la stanno portando avanti molto bene e quindi a me mi fa molto piacere essere all'interno e partecipare alle varie iniziative. Spesse volte non partecipo o per mancata comunicazione, non lo so, anche perché noi siamo decentrati e non siamo in Lombardia e quindi siamo in Toscana e quindi a volte certe cose ci sfuggano. Quali i tuoi momenti di fuga, di resistenza tra gli olivi? Sì, mi piace stare sui olivi, come ho detto già un'altra volta, purtroppo ci sto poco perché devo stare in azienda. E quindi, dicevo, è molto interessante appunto l'iniziativa che stanno facendo, specialmente quella più importante, che è il compasso d'oro. Quindi noi partecipiamo già da tanti anni e in questi ultimi anni siamo riusciti appunto con i giovani, con i ragazzi con cui collaboro, che ho scoperto e che loro hanno scoperto noi perché ci hanno interpellato e le ho prodotto alcune lampade che hanno preso il compasso d'oro, la menzione al compasso d'oro, le varie segnalazioni e quindi questo è molto importante che portano avanti sempre di più lo sviluppo quindi del design e del Made in Italy anche nel mondo perché il compasso è conosciuto a livello mondiale, ecco, molto ambito da noi produttori, da noi progettisti e quindi spero che continui il tutto. Mi è piaciuto molto quello che hai detto, anche il discorso della scoperta dei giovani talenti e del fatto che tu abbia citato prima loro come progettisti e di conseguenza l'azienda che poi si sa, la madre e il padre del progetto. Lavorate anche con tanti architetti però volevo stare sul tema della comunicazione perché tu sei molto attenta a questa, nel senso che ricordo alcune iniziative che ti vedevano come sostenitore, come sponsor, dove si parla di progetto, dove ho anche partecipato, hai un rapporto con i giornalisti che è anche, come dire, di frequentazione, di invito, di condivisione, è un modo un po' più diretto forse rispetto ad altre situazioni e aziende di raccontare il progetto. Dipende, secondo te, dalla tua toscanità o dipende dal fatto? Ma io ho un carattere che sono piuttosto aperta e anzi, a volte sono troppo e bisognerebbe a volte dire di più apertamente le cose come stanno, però forse perché sono toscana e come ho detto prima, mi piace stare all'aria aperta. Però mi piace quindi condividere e poter dire agli altri e far sapere, non più di tanto, certamente, il giusto agli altri e condividerlo questo, come si è detto prima, con i giovani proprio, perché bisogna dare spazio a loro e non lavorare sempre con i progettisti ormai noti, quelli vanno avanti da soli e invece i giovani bisogna cercare di aiutarli e comunicare sempre più con loro e farli conoscere. Questo però è il mio punto di vista. Ci sono tanti terreni su cui lavorano le aziende, le icone riaggiornate, voglio dire l'anno scorso era un importante compleanno, stai parlando dei giovani, stai parlando dei grandi architetti con cui fai dei progetti contrat, quindi la letteratura di un'azienda, il vocabolario è fatto veramente di tante parole, alcune un po' più antiche, altre contemporanee, altre addirittura dei neologismi. Come si fa a tenere tutto assieme? Noi quindi in azienda storica, siamo nati negli anni 50, molto prima negli anni 30 con mio nonno ma diciamo dagli anni 50 quando mio padre l'ha trasformata in azienda di progettazione e commercializzazione e quindi c'è stato subito da parte sua questo rapporto con gli architetti, gli architetti giovani del momento era anche la Gheolenti che iniziava, si parla degli anni 63, il Pipistrella è nato nel 65 e piano piano tutti gli altri, Asti, altri, Gramigna, insomma tanti sono e io ho continuato perché sono nata in azienda, sono sempre stata in azienda e quindi ho continuato a lavorare con vari designer e ultimamente appunto anche questi giovani però non è semplice tenere tutto insieme, quindi c'è questa parte storica che va lasciata perché è molto importante per il design italiano e però è importante anche con tutte le nuove tecnologie di incrementare e fare sempre qualcosa di nuovo con i giovani e portarlo avanti anche io progetto, mi diverto ed è per questo cerco di metterli a suo agio e a pensare e quindi a dargli lo stimolo come cerco di avere io perché mi dicono ma sei troppo agitata, fermati sono agitata ma è per questo però che voglio mettergli la marcia, la marcia Energia, senti hai parlato di nuove tecnologie, un'ultima battuta anche sulle nuove piattaforme le nuove tecnologie di comunicazione, che cosa ti aspetti da Adi oltre per esempio a questi video che stiamo facendo, oltre alla piattaforma social, nell'ambito proprio della comunicazione dove sei, siete molto attivi? Ma mi aspetto appunto che la visibilità di Martinelli Luce venga sempre più fuori perché tutto questo si fa per il marchio e quindi da Adi mi aspetto, parte da noi certamente però Adi ha in certo qual modo la sua marcia per portare avanti ancora di più il discorso e perché la comunicazione si sviluppi sempre di più e che è a vantaggio di tutti e due Adi, associazione per il disegno industriale, rappresenta le idee e gli interessi del sistema del design in Italia e nel mondo Grazie a tutti